Un'altra importantissima quella della donna e noi ci si ritrova ogni anno anche ad intervistare il Presidente della provincia la quale ha davvero un'ulteriore responsabilità perché lei presiede, è al vertice di un'istituzione quindi non può che essere un esempio anche per tutte le donne che ambiscono a battere quelle barriere che ancora oggi esistono Devo dire un 8 marzo che ancora una volta ha visto l'amministrazione provinciale impegnata sul campo, sui fronti, quello ovviamente del progetto Felia che abbiamo proprio presentato ieri attraverso il bando che sarà insomma già stato pubblicato e quindi la possibilità di formare degli operatori rispetto a quei presidi dove arrivano le donne spesso colpite da violenza e anche attraverso dei crediti formativi per 30 unità con ovviamente la richiesta di alcuni titoli per non più di 30 persone, spesso la donna si trova sola, non trova l'interlocutore che sia dal punto di vista psicologico che proprio di sostegno possa accompagnarla nella denuncia, noi riteniamo che attraverso l'orientamento e la formazione questo sia un passaggio importante altrettanto ieri sera quel magnifico concerto di James Taylor con una delle 12 date italiane che ha visto il raccolto in beneficenza alla fondazione solidale di Don Piero Puglisi e che ovviamente il raccolto va proprio alla casa dei rosa e l'azzurro che accoglie queste 14 ragazze madri o non ragazze madri che comunque sono vittime di violenza oggi parliamo del Rene, pomeriggio avremo altri appuntamenti per poi chiudere domani alle 17.30 con un libro Pensieri Leggeri di Anna Maria Longo il ricordo di una donna che ha fatto tante battaglie a favore delle donne e quindi la possibilità di questo connubio, cultura, politiche sociali, formazione e soprattutto solidarietà abbiamo in qualche modo una visione al femminile di questa nostra città, abbiamo una visione al femminile di questo nostro territorio provinciale vorremmo che attraverso gli occhi e le parole e le azioni delle donne tutti quanti costruissimo un territorio a misura di mamma, di figlio e di uomo